Certo che dovremmo deciderci a ristrutturare casa. Dove potremmo andare? Big Mat. Home of Builders. Venite in Big Mat. Dalle fondamenta al tetto abbiamo la soluzione giusta. Vi aspettiamo nei nostri punti vendita. Big Mat. 190 punti vendita ai materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare casa. Cerca il più vicino su bigmat.it